il saliamo prima si sale poi si scende poche paure ah... e tu? facevi dispettino mi aspettavi? eh... si chica bum 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 chica bum 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 lo li laggia le bombe così alla cazzo ma guardate allora direi di andare qua e fare a parte vedere il codice devo vedere il coso vediamo oddio ho capito prima ammazzo questi ok quindi io devo metterlo di qua 104 4 si perchè se no devo avanti e andare avanti e andare e non veramente lo sbatti è veramente poco veramente tanto lo dire vabbè allora non 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 se quello era lì questo dov'essere qua giusto? ah 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 giusto ebbene anche questo è fatto adesso 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 sono le combinazioni che faccio quindi anche quello dell'acqua io mi so scritto tutte le combinazioni che trovavo che mi pare che sono 4 e scrivevo tutte le formule e tutto quindi in poche parole so anche quello lì perché io mi sono fatta così quando gioco mi scrivo tutte le cose che trovo gli enigmi le cose delle prove e tutto quindi non so se funziona ancora sta cosa se è un truppo momentaneo di culo o o funziona proprio boh non lo so adesso vediamo eh che novità che novità questi sono gli hunter beta ci sono gli hunter alpha e gli hunter beta percazzata allora in poche parole io ho schiacciato tre nooo ho sbagliato porca put... no ho sbagliato ma dio oh ho perso tempo per niente che cogliona che cogliona madonna che nervi che mi vengono tre tre e se non sbaglio a a si allora è giusto fa un culo allora è così ecco segnatevelo tre uno a oppure uno tre a è uguale madonna che culo manomale è andata bene allora e l'ho scoperto solo ieri il trucco eh mhm aiuto perchè mi perchè mi pareva impossibile che non c'era un trucco dovevi fare due ore le cose rimani lì bravo ehm di qua ehm di qua coglioni più o meno eh sì certo carlos certo devi stare tranquilla sa tranquilla tranquilla ok come al solito io faccio i giri ok come al solito io faccio i giri ehm ehm boh vabbè eh adesso il problema è che c'è l'hunter via no ma neanche cagato questo è stato un enigma difficilissimo questo è stato un enigma difficilissimo ehm che bei che belle fighe tre fighe che mangiano un'altra sarà stata una puttana ehm ehm l'uovo ecco eh no adesso mi erotto il cazzo è che cazzo dopo un po' mi fate girare le palle oddio che fame muore torno a casa presto che gufam che gufam adesso arriva il nemesis con un effetto teatrale ecco mi sembra ovvia sta cosa era ero nel verso giusto ah non c'ho voglia di affrontarlo non faccio affrontare neanche a gil scappo via via il mio amore che cazzo di pattute inculati toh gil sciucchia questo vaccino madonna mia ma che cazzo dove te l'ha messo il vaccino oh mamma appena svegliata appena svegliata stors bravo hai spaccato la porta ti ringrazio mi hai fatto fare meno fatica ti ringrazio buonasera si cammina eh tranquillo li prenderei sicuramente ci mancava il microfono incastrato solo quello solo quello non si arrende allora ti ringrazio ti ringrazio ti ringrazio per me lovely complex spero in venti minuti di finirlo neanche ormai ormai siamo alla fine c'è si potrebbe dire eh ma no ma no ma no ma no allora allora qua o ci sono gli hunter o ci sono i cazzi acquatici in modo nell'altro ecco scusate scusate ecco se non le rispondo al mio amore pensa che mi sto facendo il nemesis cosa che mi ha già scritto che pirla eh si geloso anche quando gioco geloso ok qui o ci sono gli hunter o c'è il cane i cani i cani hm hm dov'è l'accendino lo prendo lì direttamente tanto c'è la save c'è la save c'è un gasone state i bravi cazzi nuotatori ok allora questo è un altro enigma veramente complicato che veramente non ci sarei mai arrivata quindi eccolo qua fatto ok boh adesso tira giù l'acqua e boh andiamo giù che poi c'è tutto l'altro casino da fare no 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 nooo ah su 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 mi qui mi è